Con la recita del rosario, alcuni giochi tipo le pignatelle, una tavolata, si è conclusa nella via d'Abi di Alcamo il mese mariano, il mese dedicato alla Madonna, ma l'importanza di questo evento è rappresentato dal fatto che hanno realizzato un grande altare come si faceva una volta in tante strade ad Alcamo. È stato un mese intenso di preghiera e notevole persone che sono venute, tipo un santuario è stato, veramente con l'odare Maria, una festa, è stato veramente emozionante perché abbiamo radunato sia il quartiere che tutta la città, non solo il quartiere, sono stati molto partecipi in tante persone. Quante persone hanno collaborato con lei? Con me hanno collaborato in tanti, c'è stata la signora Paolette, poi anche la signora Giovanna, la signora Stefania, è stato un bel gruppo. Quindi ogni sera c'è stata la recita del rosario? Ogni sera sì, ogni sera sì, il rosario abbiamo avuto tutte le sere, anche gruppi di ragazzi sono venuti a cantare, a lodare con la chitarra, anche delle poesie in siciliano, delle tradizioni che erano sepolte, le abbiamo abbastanza... E la partecipazione rappresenta anche un fatto importante, cioè l'esigenza da parte delle persone di collaborare, condividere certi momenti dedicati alla Santa Patrona della città di Alcamo. Sì, sì, è stato bellissimo, veramente.